Questo tempo, quindi classico, posso anche dipendere se vede a favore di far calcio, blocco e questo, e lui deve arrivare prima, qui, ok, rilassare, se tu sei così, devi invitare il punto, addirittura si può fare così, proprio togliere il punto, se lui attacca così, quindi tu fai il calcio rilassato come se fosse solo un calcio, capito? Tempo quadrato, cioè io faccio sempre tempo standard, perché come gli fanno, non so, pugno, pugno, calcio, ma buono, va, c'è bene, do di chiudere, esatto, ma allora un tempo, questo è sempre il tempo quadrato, calcio, ecco il mondo, ma in un tempo quadrato, e quindi è quel tempo che vi aspetta, quindi questo è il calcio, tempo quadrato, è più del tempo, provate? Allora, io calcio, viene verso di me, comunque, devo fare comunque così, ma si accorcia da molti tempi, quindi è ovvio che come quando in un battimento normale, io calcio cercando un ruolo, c'è comunque ritardo l'altro, no? Quindi cosa succede? Ecco, ritardo, e quindi ho tutto il tempo per farlo, è ovvio che se sono così, faccio questo, devo accelerare le diamo quasi insieme, ma vuol dire che ho calciato in un tempo, non devo calciare, no? Comunque è legato al fatto che io cerco di colpire, se lui è bravo a difendere, ma, ecco, sono contrattato, torno a perdere quello, c'è, però ho fatto un calcio in un tempo, non proprio standard, ma mi ha dato anche una difficoltà, ok? Faccio il mio indietro, di questo, esatto, e se si, chiudi, vai, uno, 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 spinto, provate, ok?